Grazie a Maurizio Brioni in particolare, alla Lega in generale per averci offerto quest'angolo visuale. Noi siamo molto interessati in Banca d'Italia a capire cos'è successo al sistema produttivo italiano. Sono ormai quasi dieci anni che ci si interroga su questo deficit di crescita, sui problemi strutturali del nostro Paese e così via. Sicuramente la sensazione che il sistema produttivo italiano sia cambiato, vari sono i cambiamenti, adesso non ve li sto ad elencare. Le nostre indagini che noi da anni compiamo anche a livello regionale sulle imprese ci dicono che la ristrutturazione di questo sistema produttivo è stata incompleta e che però è molto difficile sintetizzarla, nel senso che l'aspetto più rilevante che si nota è quello dell'eterogenità. Il mercato seleziona di più e non conta più stare nel settore giusto o avere le caratteristiche giuste. Ogni impresa è un po' un mondo a sé. Quello che ci vogliamo chiedere in questo caso è dove si collocano le cooperative in questo contesto? Quindi hanno adottato strategie diverse rispetto alle altre imprese? Quelle che in insomma in questa presentazione chiameremo per brevità imprese K. La prima domanda che ci siamo fatte perché ci siamo resi conto della nostra ignoranza sul settore è ma queste cooperative se noi le consideriamo come imprese sono uguali o diverse dalle imprese K? Ovviamente è un punto di partenza importante, cioè cercare di capire per esempio qual è l'obiettivo che ha una cooperativa sul mercato. Quale sarà la struttura della presentazione? Il richiamo di teoria direi che lo saltiamo nel senso che sono aspetti che eventualmente se siete interessati potete leggere. Per noi è stato importante per capire come la teoria economica inquadrava i punti salienti di una struttura di impresa cooperativa. Ci siamo invece soffermate sull'evoluzione strutturale negli anni più recenti e poi vi presenterò l'indagine che abbiamo fatto con la Fondazione Storia e Civiltà della Cooperazione di Bologna. Qualche conclusione ovviamente come sempre sono qui soprattutto contando nei vostri commenti che ci sono utilissimi. partiamo direttamente con i dati. Abbiamo in Italia al 2001, perché purtroppo i dati di censimento sono così vecchi, 46 mila cooperative, non sono poche assolutamente, sono molto concentrate sia a livello regionale sia a livello settoriale, come vedete agricoltura soprattutto, costruzioni eccetera e nei servizi. La principale differenza che si osserva è quella della dimensione. È assolutamente impressionante e in attesa. Parliamo di 15 addetti in media per le Coop contro 3,8 per le altre. Peraltro le Coop levemente aumentano di dimensione in 10 anni, mentre le imprese K calano. Queste sono le quote percentuali per macroarea. Come vedete il nord-est, dove è l'Emilia Romagna è quella che ha la percentuale più alta, la dimensione media più alta tra le imprese cooperative. E questo è l'andamento tra il 91 e il 2001. Vedete che le imprese K sostanzialmente non hanno cambiato dimensione, c'è solo un effetto di calo abbastanza significativo nel nord-ovest e nel centro. Peraltro un po' di pubblicità non guasta, noi stiamo partendo anche con l'indagine sul nord-ovest. Quindi mentre nel nord-est parliamo di metamorfosi, insomma sul nord-ovest la domanda forse sarà un po' diversa. La prima parte del nostro lavoro è stata dedicata a guardare l'universo italiano. Perché? Perché avevamo più dati e quindi volevamo anche un po' di conforto e di conferma sui risultati che poi abbiamo ottenuto dai dati delle cooperative dell'Emilia Romagna. Quindi abbiamo preso i dati CERVED che sono i dati di bilancio 2001 e 2009 e li abbiamo incrociati con quelli della nostra indagine che noi chiamiamo per brevità INVIND, in realtà è il retaggio della sigla investimenti delle imprese industriali, in realtà l'indagine è sulle imprese dell'industria dei servizi sopra i 20 addetti. Li abbiamo incrociate e abbiamo cercato di scomporre le componenti delle cooperative e delle imprese K per capire come andava la dimensione media, se ci sono differenziali di produttività nei margini di profitto, negli investimenti e nella propensione all'export. Quindi abbiamo cercato di fissare alcuni punti. Il primo ovviamente ci conferma che c'è una differenza di dimensione media significativa, lo vedete nel primo coefficiente in alto che si legge come differenza e sostanzialmente non è molto dipendente dall'effetto settoriale. Vado veloce su questo perché sono aspetti che sostanzialmente possiamo poi sintetizzare. Sulla produttività abbiamo già ricevuto molti commenti perplessi, qui abbiamo misurato il logaritmo del valore aggiunto rispetto al numero di dipendenti, quindi è il prodotto per dipendente in qualche modo e qui il coefficiente COOP ci dice che c'è una produttività significativamente, tre stellette, diversa e inferiore da quella delle altre imprese K in sostanza. Sui margini di profitto invece come vedete il coefficiente è quasi zero e peraltro la differenza in questo caso quindi perché il coefficiente misura la differenza con le imprese non cooperative è sostanzialmente nulla, non ci sono stellette nell'errore standard. Quindi in sostanza abbiamo una produttività più bassa e margini di profitto simili. Come si conciliano queste due cose? La risposta l'abbiamo trovata qui, in sostanza il costo del lavoro per addetto ci risulta significativamente inferiore. Faccio una premessa perché so già, visto che abbiamo partecipato ad altre presentazioni, una delle vostre prime obiezioni, ma qui c'è la storia del ristorno, non la misurate bene? Sì, all'inizio proprio perché eravamo piuttosto ignoranti sul settore abbiamo preso un po' l'insieme delle cooperative. In questa seconda fase proprio per fare un'analisi omogenea abbiamo considerato solo alcuni servizi e l'industria, quindi utilizzando settori tendenzialmente omogenee in cui le cooperative erano simili alle imprese normali. Assolutamente il costo del lavoro è differente. C'era un'ipotesi che non vi ho segnalato nella teoria che dice che le cooperative tendono ad attuare politiche del contenimento del costo del lavoro perché sostanzialmente nei momenti di necessità tengono più flessibili il costo del lavoro rispetto all'occupazione. Quindi già qui emerge una differenza che viene confermata. Infine, questa è un po' la dinamica, gli investimenti. Gli investimenti e come si cresce, come ci si sviluppa. Il coefficiente COP di differenza COP è zero. Su questo le COP e le COP non sembrano molto diverse e non sembrano diverse neanche sia se consideriamo gli investimenti in rapporto al fatturato, sia in rapporto agli addetti. Quindi su questi aspetti non abbiamo molta differenza. Qui invece la si trova. La propensione all'export delle cooperative è assolutamente più bassa. Questi sono dati nazionali che noi abbiamo ponderato per apportare ovviamente il campione all'universo perché come saprete sia la nostra indagine INVIND sia CERVED non contiene tutte le imprese italiane. A questo punto vorremmo cercare, tenendo presenti questi risultati, di capire i risultati invece dell'indagine dell'Emilia Romagna. Perché ci interessano? Perché quello di cui ci si rende conto immediatamente è che questi dati hard non ci dicono tutto. È molto difficile da questi risultati, investimenti e così via, capire se c'è stato un cambiamento, in che direzione è stato, ad esempio nelle strategie, nei processi proprio di scelta dei manager per esempio. Su questo bisogna andare a fare delle indagini sul campo. Ecco, questo è l'universo, l'universo Emiliano Romagnolo. Vedete c'è di tutto, però insomma le cooperative di produzione e lavoro sono piuttosto rilevanti. I dati sono interessanti. Purtroppo da quei numeri lì noi abbiamo estratto soltanto 57 imprese. Cosa significa questo? Significa che i risultati hanno un valore qualitativo, ma non possiamo da questo estrapolare dei risultati completamente significativi per l'intero universo delle cooperative dell'Emilia Romagna. Io vi presento solo alcuni risultati, se no facciamo ovviamente notte. Questa è la prima cosa. Le imprese sono grandi, le cooperative, ma, altro risultato interessante, sono più vecchie. Sono più grandi, ma anche più anziane. Quindi sono imprese solide, direi. 33 anni e mezzo in media nella nostra indagine nazionale, 58 e 7 nelle CEM. Prima parte, cominciamo su come si sente un'impresa, come si sente collocata rispetto ai propri competitors. Allora, ho colorato in azzurro per semplificarvi la strada in mezzo a tutti questi numeri. I dati che io trovo molto simili a quelli delle imprese K e in giallo quelli che considero abbastanza diversi. Anche qui c'è differenze non molto grandi per campioni del genere, non ritengo che siano significative. Quindi, sostanzialmente le cooperative si ritengono come le imprese K in una posizione competitiva piuttosto forte. Ma quali sono gli aspetti curiosi? Allora, il primo è il localismo. Il primo concorrente è, nell'80% dei casi, dentro la stessa regione. Come vedete, il resto d'Italia è zero, ma di nuovo qui è un fenomeno di avere un risultato da campione piccolo. Il segnale è che comunque, rispetto alle imprese K, sono molto radicate territorialmente. E in più, questa sembra una domandina trappola, hanno una reattività, diciamo, la domanda dei loro prodotti ha una reattività ai prezzi molto più forte. Cosa significa questo? Significa che tendono ad avere prodotti, tenderebbero probabilmente ad avere prodotti poco differenziati a basso livello tecnologico. Questo potrebbe essere un segnale non del tutto positivo in un mondo in cui le imprese di successo sono quelle che differenziano, cioè che si distinguono dalle altre. Ultimo risultato che vi prego di tenere a mente per dopo è questo degli indicatori di produttività del lavoro. Questo è stato uno dei risultati più divertenti delle indagini che abbiamo fatto con Salvatore Rossi negli anni passati sulle imprese K, perché noi andavamo dalle imprese e gli chiedevamo, sentite, ma voi misurate la produttività del lavoro? E loro dicevano sì sì, e noi chiedevamo, ma come fate? Nessuno di fatto lo faceva, cioè non c'era un indicatore di qualunque genere che facesse qualcosa del genere. La sensazione è che questa risposta delle cooperative sia piuttosto vera, secondo me è confermata poi dai risultati successivi. Questo è un punto su cui le cooperative, nonostante il risultato produttività più bassa, siano piuttosto attente. E andiamo con le strategie. Vedete qui c'è un po' di colore giallo-azzurro. Sono cambiate o non sono cambiate? Sono cambiate, azzurro, come le imprese K, ma più lentamente, cioè nel 2006, quando già le imprese K ci dicevano che avevano intrapreso in larga misura un processo di cambiamento, loro erano cambiate meno. Quindi diciamo è stato un processo avviato più tardi, ma sicuramente avviato. Stesso discorso per l'internazionalizzazione. Io qui ho messo un azzurro. Attenzione, su questo 5-7 c'è un minimo di errore, nel senso che ci sono due o tre imprese che hanno tenuto molto alto questo valore. Le imprese cooperative sono chiaramente poco internazionalizzate, però c'è stato qualche passo avanti. Che tipo di strategie hanno adottato? Di nuovo, dai dati di bilancio, queste cose sono impossibili da vedere. Chiaramente restiamo comunque su prodotti simili. Come vedete, questo è un dato che non è molto diverso da quello delle imprese K. Qualche volta c'è stato un tentativo di spostarsi un pochino a lato, un pochino accanto, forse di più rispetto alle altre imprese italiane. Altre cose curiose sono questa attenzione alle attività promozionali e all'assistenza post vendita. Quindi la domanda, la nostra domanda, la domanda delle cooperative, è molto reattiva al prezzo e forse si cerca, diciamo, di influenzare questo effetto, che non è sempre molto positivo, con attività di assistenza al prodotto. Su questo c'è chiaramente una differenza. Come c'è, però meno rilevante, sostanzialmente non è molto significativa, la differenza nell'outsourcing, sub forniture e così via. E qui vedete un po' quali sono le differenze, in che cosa si esternalizza. Secondo me l'aspetto un po' preoccupante è che le imprese cooperative esternalizzano le cose importanti, cioè la ricerca e sviluppo, l'ingegneria, la progettazione. Questo secondo me è qualcosa di preoccupante, può voler dire A, che si è piccoli, ma abbiamo visto che non è sempre così, anzi non è quasi mai così, B, che non si hanno le risorse. E su questo ci possiamo interrogare qualche risposta e il resto dell'indagine ce la dà. Questa parte dei risultati è stata molto interessante da verificare, sicuramente ci sono più donne, la differenza però non è enorme nelle cooperative tra i presidenti e i capi dell'impresa, si vede una tendenza al ringiovanimento dei dirigenti, lo vedete andando dal primo al quarto, certo c'è ancora una certa persistenza, diciamo, il numero di anni in carica, non possiamo confrontarlo con le imprese K, insomma è alto, è alto in assoluto, non so dirvelo in relativo. Certo in Italia abbiamo una grossa prevalenza di imprese familiari, quindi tendenzialmente il numero di anni in carica del K è altissimo, però insomma dieci anni sono tanti forse per poter imprimere delle spinte al cambiamento. Sul modello di governance, questi sono risultati interessanti, soprattutto nel fatto che si intravede una certa fantasia, quantomeno volontà di esplorare questa possibilità di utilizzare i modelli di governance come strumento per la partecipazione aziendale. Non ci fidiamo moltissimo dei risultati perché di nuovo stiamo parlando delle imprese della Miglia Romagna e di alcune che effettivamente sappiamo anche per la loro storia hanno cercato sempre più di avvicinarsi, diciamo, nel caso delle cooperative d'utenza, consumatori e così via. E qui gli abbiamo fatto le famose domande difficili, nel senso che tendenzialmente, questo da psicologi o psicologhe, insomma ormai l'abbiamo verificato, è difficile, c'è un chiaro problema di dissonanza cognitiva, nessuno vi dirà mai, che non è adeguato, né come capo, né come impresa, né come scala produttiva. E quindi questa risposta alla scala produttiva adeguata, 86% sì, più o meno come le imprese K, non è tanto quella rilevante, quello ci interessano solo le code, cioè quanti sono quelli che hanno detto di no. Tuttavia anche nelle code non c'è una grossa differenza, poche sono le imprese che si ritengono abbastanza piccole, un po' di più le cooperative. C'è un certo stimolo a crescere, anche se, come vedete in fondo, spesso si rinuncia a salti dimensionali, a salti di crescita. A salti di crescita ci sono dei vincoli? Ecco, questa è un altro grosso, una grossa domandona sulle cooperative, abbiamo visto che sono più grandi, può darsi che siano più grandi, ah perché per fare una cooperativa bisogna essere insomma un certo numero e non come nelle imprese, si parte anche da uno, dal capo. Ma c'è un problema di finanziamento, allora per tanti anni si è detto, beh anche la teoria economica in alcuni casi ci dice l'impresa cooperativa tende ad avere vincoli finanziari, sia dovuti al capitale dei singoli soci. Ecco, quello che noi abbiamo visto nella concreta storia delle imprese cooperative è che nonostante tutto sommato gli strumenti specifici che avessero a disposizione non fossero così tanti, su questo c'è una creatività incredibile, quindi siamo in una fase in cui sostanzialmente non direttamente ma indirettamente si va anche in borsa, ne parlava prima Maurizio Brioni, quindi in sostanza se si vuole crescere le imprese cooperative il sistema l'hanno trovato anche in maniera se volete più spregiudicata e in positivo delle imprese di capitali che invece non amano tanto andare in borsa per questioni di trasparenza e così via. L'altra cosa interessante è che tutto sommato anche lì la carenza di risorse finanziarie non è considerata un enorme problema. Le risorse manageriali, qui si ritiene che se l'impresa è ritenuta tutto sommato non è un problema di carenza di manager ma quando gli si chiede ma il vostro personale ha competenze adeguate? Ovviamente la risposta è sì ma abbiamo capito che è più un effetto psicologico che altro. Quando si parla di salari si comincia a vedere che sempre più nel tempo la percezione delle cooperative è che i salari richiesti siano troppo elevati. Come si sposano tutte queste cose insieme alla ricerca di un manager adatto al nuovo mondo? Forse questa è la risposta che ci dice di più. Probabilmente le imprese cooperative non hanno molta difficoltà di reperire personale qualificato, tutto sommato però resta elevata come vedete, c'è un problema di salari e quindi probabilmente in realtà la difficoltà c'è. I prezzi di mercato del manager giusto oggi sono più alti. Qualcosa in più qui, questo ve lo lascio per la vostra riflessione, si vede che c'è un pochino più di laureati ricercati, quindi altro segnalino che si sta cercando nel reclutare il personale gente qualificata. Non è detto che la laurea sia la cosa primaria ovviamente, ma stiamo parlando di personale a primo o secondo impiego. Ovviamente gli altri, io siamo andati a intervistare con Rossi alcune cooperative e c'erano molti manager che avevano avuto altre esperienze anche in imprese K, quindi assolutamente questo riguarda il primo impiego. E da ultimo le cooperative e la crisi. Qui di nuovo troviamo una conferma a risultati che avevamo visto prima sul costo del lavoro e sull'occupazione, eccetera. Le cooperative hanno su alcuni aspetti più flessibilità e quindi di fronte alla crisi tutto sommato tendono a andare meno male, ad avere risultati tutto sommato meno negativi. Questo è il risultato principale che noi abbiamo trovato durante la crisi e che viene anche confermato dai risultati di bilancio che abbiamo visto prima e che sono usciti anche sui giornali in questo periodo. Qui non mi fermerei molto. Su tutti questi aspetti un po' più qualitativi se guardate non ci sono grosse differenze sinceramente. C'è qualcuno che ha fatto più accordi tecnico produttivi ma qui c'è chiaramente un effetto dimensione del campione. Sul resto obiettivamente non ci sono differenze. Guardate solo l'ultima riga. Quello che viene percepito in maniera non molto differente dalle imprese K è che la concorrenza sia cresciuta, sia assolutamente cresciuta. Passerei solo alle conclusioni. Cosa abbiamo trovato in sostanza? Molte differenze. Differenze come abbiamo visto nel costo del lavoro, nell'andamento dell'occupazione, notevoli similitudini, ad esempio nei profitti ma anche nelle strategie. Quello che ci chiediamo è visto che ci sono diverse indicazioni che sia un modello che comunque mantiene una produttività relativamente più bassa. In un contesto di accresciuta concorrenza, quanto è sostenibile ancora questo modello? E di nuovo quanto sono ulteriormente comprimibili i costi, tra cui quello del lavoro, se vogliamo attrarre le risorse umane migliori? E infine la localizzazione è un vincolo. Guardate, la crisi è stata terribile sulle imprese che esportavano, ma è stata velocissima. In Emilia Romagna abbiamo quasi recuperato il livello di export pre-crisi. Qual è il messaggio? È positivo o negativo? Io direi che è assolutamente positivo. Le esportazioni e soprattutto per le imprese di questa regione sono una risorsa, i mercati esteri sono una risorsa, soprattutto in un contesto in cui la domanda interna soffre. È lenta, ha una dinamica molto bassa, ci sono problemi di finanza pubblica, quindi non ci possiamo aspettare una grossa ripresa della domanda interna. La localizzazione rischia di essere un vincolo. Abbiamo qualche evidenza di diversificazione dei prodotti e dei mercati e a voi io chiederei, ma quanto percepite sia deciso questo cambiamento? Grazie. Io sono, risentendo questa presentazione, rimango convinto di uno degli...